iniziamo a vedere la tutela mediante registrazione diciamo di quelle quattro forme quella slide con le quattro forme ci fa un po' da indice della nostra lezione quindi finita la parte introduttiva adesso vediamo il punto 1 cioè la tutela del design mediante registrazione che è quindi più simile alla registrazione di un marchio possiamo dire come approccio allora cosa può essere registrato come disegno modello questo è l'articolo 31 del codice della proprietà industriale e è una norma che appunto assomiglia un po alle norme sull'articolo 7 seguenti che erano quelle sul marchio possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee dei contorni dei colori della forma della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto del prodotto stesso ovvero del suo ornamento a condizione che siano nuovi e abbiano carattere individuale ecco perché in questo primo articolo abbiamo già la definizione non dico che va saputo a memoria ma quasi nel senso che è un po come nei marchi c'è un elenco di cose che si possono registrare come marchi e poi dice quali sono i due requisiti devono essere il requisito è che siano nuovi i disegni e modelli e che abbiano carattere individuale ok non c'entra nulla col carattere creativo non c'entra nulla col valore artistico qua non siamo nella normativa della legge sul diritto d'autore siamo nella legge nell'altra nell'altro caso quindi squisitamente nei disegni che vengono registrati come 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 disegno appunto depositato il carattere individuale lo vediamo dopo cioè spieghiamo in una slide di preciso che cosa si intende è molto è molto interessante e utile capire perché appunto è proprio il requisito che fa scattare la tutela è un po come il il carattere creativo per il diritto d'autore ed è un po come la capacità distintiva nel marchio quindi va saputo bene come vedete che scusate anche altra notazione la parola ornamento non è più così centrale cioè diventata una delle tante caratteristiche dei tanti cioè parte affogata all'interno di una definizione più ampia quindi non è più così centrale come era nella definizione del 1939 40 per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso gli imballaggi anche le presentazioni i simboli grafici e caratteri tipografici esclusi i programmi per il lavoratore quindi i caratteri tipografici simboli grafici sì ma non il software che li fa girare vabbè questo era per me abbastanza superfluo è precisare che il software non è tutelabile con design però ecco l'hanno l'hanno precisato per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti e consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto queste cose secondo me le sapete spiegare meglio voi di me cioè nel senso che capire cosa voglia dire fare un oggetto di design complesso non complesso me lo sapete spiegare meglio siete specialisti di questo io non sono non ho mai lavorato nel campo del design quindi non faccio altro che studiarlo dal punto di vista puramente giuridico teorico ecco i due requisiti per la registrazione sono questi abbiamo detto no lo dice già qua a condizione che siano nuovi abbiano carattere individuale gli articoli 32 33 non fanno altro che definirmi i due i due requisiti cosa intendiamo per novità nel design un disegno a modello è nuovo se nessun disegno a modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero qualora si rivendichi la priorità anteriormente alla data di quest'ultima quindi non è che conta il fatto che qualcuno l'abbia registrato prima ma che l'abbia divulgato prima questo è un aspetto non da poco ovvero vabbè qualora si rivende che priorità cioè priorità il fatto che ci sia qualcuno che lo stava utilizzando prima lo stava sfruttando prima come nell'ambito del marchio vi ricordate il marchio di fatto viene tutelato sulla base del cosiddetto preuso il fatto che qualcuno lo stesse utilizzando prima anche se non c'è stata una formale registrazione i disegni o modelli si reputano si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti e anche qua probabilmente lascerei parlare più che altro voi su che cosa si intende per un dettaglio irrilevante o meno una cosa che mi viene in mente era la causa se andate un po' indietro negli anni cercate un po' di articoli c'è una causa tra apple e samsung sulla sulla forma degli smartphone no si parla di un po' di anni fa cioè adesso oggettivamente sono tutti uguali però all'epoca iphone era aveva fatto da pripista e samsung rincorreva e apple si era un po' come dire piccata del fatto che alcuni alcuni modelli di galaxy erano troppo simili all'iphone nella curvatura nel nell'angolo di curvatura del capite dello spigolo quanto è smussato e con quale angolo di curvatura viene smussato lo spigolo del cellulare e vi sono messi a fare grandi cause e quindi botte di avvocati di decine di migliaia di euro di avvocati per litigare su quale fosse l'angolo di curvatura che violava o meno il design del primo del primo prodotto sul mercato vabbè vi lascio poi a leggere poi magari ecco questo potrebbe essere interessante leggere un articolo su questo aspetto però adesso continuiamo con le slide poi magari ci interrompiamo e facciamo un escursus su casi del genere l'altro requisito che secondo me è quello forse più centrale perché è quello che esiste proprio solo nel mondo del design carattere individuale si usa proprio tecnicamente solo nella normativa sul design quindi bisogna capirlo e conoscerlo dice l'articolo 33 che un disegno modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o qualora si verifichi la priorità prima della data di quest'ultima quindi più o meno i parametri sono gli stessi di prima la divulgazione divulgazione quindi non registrazione precedente e la cosiddetta priorità e quindi cosa si intende poi tecnicamente per carattere individuale quando cioè si ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno modello che sia stato divulgato prima cioè innanzitutto questo concetto dell'utilizzatore informato interessante perché l'utilizzatore informato vuol dire che bisogna andare a cercare cioè non si va sull'uomo medio sul consumatore medio ma l'utilizzatore informato quindi quando ci sono cause in materia di design quasi sempre i giudici incaricano degli esperti di design e che devono essere esperti di design di quel singolo settore perché una cosa è disegnare cellulari una cosa è disegnare lampade un'altra cosa è disegnare caloriferi e che ne so e tubi di scappamento per le auto di lusso e a seconda dei vari settori ci vuole bisogna andare a individuare l'utilizzatore informato che riesca poi a percepire che quel disegno ha un carattere individuale il punto 2 nell'accertare il carattere individuale di quel comma 1 si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno modello interessante anche questo cioè se quella se quel disegno se quell'oggetto non c'erano tanti altri modi di disegnarlo allora il carattere individuale si abbassa è un po come il carattere è un po quello che succede col carattere creativo nel diritto d'autore se realizzo una foto aerea che deve documentare un'area e quella foto aerea non è che ci sono tanti modi per farla devo passare con un aeroplano e fotografare quella singola area quella foto sarà sempre molto poco creativa avrà poco copyright avrà una tutela al massimo di diritto connesso e poco più qua uguale cioè se il designer ha poco spazio di azione perché quella cosa c'è tipo una bottiglia c'è la bottiglia non è che può avere delle forme particolari c'è la bottiglia quasi sempre di avere un collo e un buco stretto da cui esce il liquido no se no non è più non è più nemmeno una bottiglia ed è un'altra cosa e quindi se io sono incaricato di disegnare una nuova bottiglia per una per un alcolico per un per un liquore devo considerare che non è che il fatto che anche altri abbiano fatto bottiglie con un collo e con un buco stretto mi vincoli a non fare a dare una forma completamente diversa cioè la bottiglia giustamente deve essere bottiglia quindi io devo distinguere creare trovare il carattere individuale in altre parti dell'oggetto quindi nella pancia della bottiglia nel come come cade non so l'etichetta e via dicendo la base ok quindi questo è la definizione di carattere individuale va saputa ripeto non proprio a memoria ma è importante capire gli elementi il discorso del utilizzatore informato che percepisce che ci sia una differenza rispetto a quelli precedenti al design che normalmente girano in quel settore si aggiunge poi quando c'è vedete che c'è un bis è stato aggiunto successivamente un 33 bis del codice della proprietà industriale che parla della liceità non ci perdiamo tanto tempo è un po come quando abbiamo fatto l'esempio della liceità nel marchio liceità nel brevetto anche qua non può costituire l'oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume però poi aggiunge che il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa vabbè dovete semplicemente sapere che esiste anche il caso del requisito della liceità ed è legato come nel discorso dei marchi e dei brevetti tendenzialmente all'ordine pubblico o al buon costume ho addirittura tagliato il comma 2 perché non ci interessava è stata un'ordine pubblico o al buon costume per la liceità o al buon costume per la liceità